Molto semplice, se ci sono delle strutture occupate abusivamente, non penso che questo paese possa tollerare delle zone di illegalità diffusa. Se un'associazione come qualsiasi associazione vuole riunirsi lo fa pagando un affitto e magari anche non organizzando azioni violenti in giro sul territorio nazionale. Capisco che magari forse siamo un po' estremisti in questo e magari siamo razzisti e xenofobi dicendo che la violenza non va bene in questo paese, però a noi ci piacerebbe che le associazioni si riunissero, parlassero di quello che vogliono ma non andassero magari a manifestare in modo violento sulle piazze del nostro paese. Se ci sono delle azioni violente, chiunque le faccia, guardi non faccio distinzione politica a differenza degli avversari, non vanno bene e bisogna bloccare quei ritrovi che fomentano azioni violente. Non mi interessa ancora il politico, io in questo momento però vedo che le azioni violente che si stanno verificando sul territorio nazionale vengono principalmente da un mondo che guarda Finistra.